Ballando con le stelle 2023, la battuta su Stefano De Martino e Belen. Colpi di scena in successione nel corso della messa in onda della trasmissione di successo di Millie Carlucci. Dalle rivelazioni emozionanti di Simona Ventura sulla figlia adottiva Caterina, alla performance di Vanda Nara che ha stupito tutti i presenti nei panni di Ketuoman con tanto di leccata finale. Insomma, non sono di certo mancati i motivi per tenere incollato allo schermo il pubblico italiano. E non ultima, rientra nella lista anche la frase che ha tirato in ballo una delle ex coppie più chiacchierate di sempre. La frecciatina a Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Ballando con le stelle. La modella argentina e il conduttore arrivano a essere nominati anche quando la loro presenza non è espressamente richiesta. È successo davanti alle telecamere della trasmissione quando a tirarli in ballo sarebbe stato proprio uno dei giurati dopo l'esibizione di Stefano. Fabio Canino non è riuscito a trattenersi tirando in ballo Stefano De Martino e Belen. Tutto sarebbe accaduto quando De Martino ha ultimato di esibirsi in coppia con Sofia Tancella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare. I due si sono esibiti per la nobile causa di Teleton. Una volta conclusa l'esibizione, Stefano si è limitato a pronunciarsi rapidamente solo su progetti futuri per poi decidere di uscire di scena. Ma sappiamo benissimo che dopo le dichiarazioni di Belen, la frecciatina sul caso era del tutto inevitabile.